10 consigli per i capelli che ogni ragazza dovrebbe conoscere Capelli magnifici, folti e luminosi sono il desiderio più profondo di quasi tutte le donne e non importa se i tuoi capelli sono perfetti di natura o no la cosa più importante è prendersene cura per renderli morbidi, folti e setosi il lato positivo ha creato per te una bella guida per prenderti cura dei tuoi capelli numero 10 lavaggio allora innanzitutto cominciamo con le cose più semplici lavare i capelli prima di entrare in doccia spazzola i capelli così non si annoderanno una volta asciutti inizia a lavarli mettendo per prima cosa lo shampoo sulle tue mani e solo dopo sui capelli già bagnati massaggia delicatamente alle radici partendo dalle orecchie fino a dietro la testa questo permetterà al sangue di continuare a circolare bene fino ai follicoli per favorire la crescita del capello risciacqua poi con acqua calda se necessario applica lo shampoo una seconda volta infine non dimenticare di utilizzare anche il balsamo risciacqua ancora una volta con acqua calda e poi di nuovo ma con acqua fredda dopo il lavaggio asciugati delicatamente i capelli con un asciugamano caldo partendo dalle radici fino alle punte numero 9 asciugare con il phon il passo successivo è asciugare i capelli con il phon inizia con l'applicare prodotti speciali sui tuoi capelli poi dividili in ciocche posiziona l'asciugacapelli a circa 15 cm di distanza dal cuoio capelluto e asciuga dalla radice alle punte per un effetto volume è meglio se cominci dalla parte posteriore della testa e dalle ciocche laterali solleva leggermente le ciocche alla radice e asciuga muovendo il phon verso il basso quando hai finito asciuga le ciocche centrali non esagerare troppo con il phon usalo solo una o due volte a settimana usare l'asciugacapelli ogni giorno potrebbe far seccare e spezzare i tuoi capelli in estate ovviamente lasciali asciugare al caldo numero 8 tipi di capelli ora faremo un piccolo test divertente ti va? ti faremo qualche domanda e in base alle risposte che darai potrai scoprire che tipo di capelli hai iniziamo domanda numero 1 quanto spesso ti lavi i capelli? a. ogni 2 e 3 giorni b. ogni giorno c. una volta a settimana d. ogni 2 e 4 giorni domanda numero 2 quando ti diventano unti? a. dopo 2 giorni b. la sera c. alla fine della settimana d. dopo 2 e 3 giorni domanda numero 3 come sono le punte dei tuoi capelli? a. normali b. un po' rovinate c. secche e fragili d. secche e rovinate domanda numero 4 hai dei capelli voluminosi? a. no normali b. sì ma solo dopo averli lavati c. sì tantissimo d. sì le punte a volte si increspano domanda numero 5 quanto spesso si elettrizzano? a. a. a volte b. molto di rado c. spesso d. solo sulle punte voilà! abbiamo finito bene se hai scelto quasi sempre la A congratulazioni! hai dei capelli normali? sono il tipo più raro e tu ce l'hai sei fortunato perché per non avere problemi devi solamente lavarli e proteggerli dal sole se hai scelto quasi sempre la risposta B significa che hai i capelli grassi di solito dipende dal fatto che anche il tuo cuoio capelluto è grasso chi ha questo tipo di capelli dovrebbe quindi evitare di toccarli e di massaggiarli con oli perché potrebbero ungersi ancora di più a. non lavarli con acqua calda perché questa stimola la produzione di sebo se hai scelto quasi sempre C i tuoi capelli sono secchi anche qui in realtà è il tuo cuoio capelluto che è secco in questo caso è consigliabile massaggiare il capo con degli oli di tanto in tanto ed evitare di fare lo shampoo tutti i giorni perché altrimenti si seccano ancora di più se invece hai scelto quasi sempre D hai dei capelli misti ovvero grassi vicino al cuoio capelluto e secchi sulle punte evita di asciugarli con aria troppo calda perché le punte si seccheranno ancora di più mentre alla radice saranno ancora più grassi numero 7 ferro arricciacapelli innanzitutto dovresti sempre tener conto del tipo di capelli che hai quando scegli la temperatura del ferro arricciacapelli ricorda fino a 170 gradi è un'ottima temperatura per i capelli fini temperature dai 170 ai 200 gradi invece vanno bene per capelli normali e dai 200 ai 230 gradi per i capelli spessi vediamo ora la forma del ferro quelli a forma cilindrica ti danno ricci di forma conica effetto onde naturali un altro elemento fondamentale è il tempo di posa sul ferro se ci tieni una ciocca per 5 secondi ne risulterà un riccio poco accennato 7 secondi invece sono raccomandati per ottenere dei capelli abbastanza ondulati e infine 10 secondi per dei veri ricci effetto naturale garantito ricorda queste tre cose fondamentali mai arricciare i capelli bagnati pulisci il ferro dopo ogni utilizzo e non usarlo tutti i giorni 6 piastra lisciante la migliore temperatura che la piastra deve raggiungere dipende dal tipo di capelli fino a 170 gradi per capelli fini e da 170 a 230 gradi per capelli spessi inoltre consideriamo anche il fatto che ci sono diversi tipi di piastre nelle piastre di ceramica i capelli scorrono lisci come l'olio inoltre possiamo usarle frequentemente quelle in tormalina invece sono le più adatte a capelli folti e ricci e non li elettrizzano quelle al titanio infine sono usate dai professionisti del capello usare la piastra è molto semplice innanzitutto applica uno spray che protegga i tuoi capelli dal calore e lasciali asciugare inizia a lisciarli partendo dai lati e dalla parte posteriore del capo inizia dalle radici per poi scendere fino alle punte quando hai finito ai lati e dietro liscia le ciocche che sono rimaste dopo aver completato l'opera pettina i capelli non lasciare agire la piastra in un punto per più di 2-3 secondi e non usarla più di una volta a settimana e come per l'arriccia capelli puliscila regolarmente numero 5 olio per capelli iniziamo con l'olio di avocado che ha svariati vantaggi ma più di ogni altro ammorbidisce, nutre e idrata i capelli ecco un consiglio rapido su come utilizzarlo mescola 5 cucchiai di olio di avocado con 3-5 cucchiai di olio di cocco dopo scalda il mix e applicalo sui capelli lascia agire per circa 15-20 minuti e risciacqua vedrai, i tuoi capelli te ne saranno grati il prossimo è l'olio di argan che idrata i capelli, li nutre e li rigenera puoi anche usarli entrambi da soli o con altri oli al posto del balsamo anche l'olio di cocco è un ottimo trattamento per i capelli perché aiuta i capelli danneggiati a recuperare la loro vitalità naturale il miglior modo per usarlo è per un massaggio ai capelli un consiglio per un utilizzo ancora più semplice aggiungine qualche goccia nello shampoo ed ecco qua anche l'olio di jojoba nutre arricchisce e protegge i capelli usalo per un massaggio ai capelli applicane delle gocce sulle dita e massaggia delicatamente i capelli numero 4 maschera per capelli le maschere per capelli sono la cosa più importante per prendersene cura perché danno loro ciò di cui hanno bisogno rendendoli più sani e ora abbiamo per te alcune ricette in base ai vari tipi di capelli iniziamo con la fantastica maschera nutritiva per capelli normali ti serviranno 2 cucchiai di olio di bardana 2 cucchiai di olio d'oliva 10 gocce di vitamina A e 10 gocce di vitamina E innanzitutto scalda il composto e mescola bene poi applicalo su tutti i capelli lasciando agire per un'ora questa maschera renderà i tuoi capelli luminosi abbiamo anche una ricetta per capelli deboli la maschera rinforzante per capelli deboli gli ingredienti sono un cucchiaino di olio di ricino un cucchiaino di miele e un cucchiaino di succo d'aloe mescola gli ingredienti e applica la maschera sui capelli un'ora prima di lavarli poi risciacqua a fondo i capelli questa maschera ristruttura i capelli e fornisce loro tutte le vitamine di cui hanno bisogno ehi, non abbiamo mica dimenticato i capelli grassi ecco per te una maschera efficace anche per capelli grassi gli ingredienti sono due cucchiai di senape in polvere quattro cucchiai di acqua calda tre cucchiai di argilla bianca o verde un cucchiaio di miele e un cucchiaio di succo di limone mescola gli ingredienti e applica la maschera sui capelli lasciando agire per 30-40 minuti poi risciacqua i capelli questa maschera renderà i tuoi capelli freschi voluminosi e raggianti numero 3 dieta il cibo che mangi ha degli effetti sui tuoi capelli quindi una dieta ricca di vitamine e minerali è essenziale per avere dei capelli perfetti ecco una lista di vitamine importanti non solo per aver cura dei tuoi capelli ma anche per essere sani e belli iniziamo con la vitamina C che favorisce la circolazione sanguinea nel cuoio capelluto e stimola la crescita dei capelli se vuoi assumerne di più mangia limone kiwi olivello spinoso uva di corinto cinorrodo anche l'omega 3 va benissimo perché rallenta il processo di invecchiamento e rafforza il sistema immunitario puoi trovarlo in pesce frutti di mare semi di lino avocado noci la vitamina A stimola la rigenerazione delle cellule e rallenta il processo di invecchiamento fegato fiocchi di latte uova carote e zucca ad esempio sono prodotti molto ricchi di vitamina A lo zinco e il selenio invece ti proteggono dagli effetti dannosi dell'ambiente mbè utile no? se concordi con noi mangia uova carne di manzo pane di segale latte e pesce la vitamina E nutre i capelli alla radice e protegge dai danni dei raggi UV per assumere più vitamina E aggiungi nocciole semi uova verdure dalle foglie verdi e oli vegetali nella tua alimentazione ultima ma non meno importante la vitamina B che stimola la crescita dei capelli e dona brillantezza ed elasticità ai capelli le migliori di vitamina B sono cereali nocciole crusca e uova numero 2 colore dei capelli chi ha i capelli chiari ascolti attentamente innanzitutto per i tuoi capelli non vanno bene tutti gli oli ok agli oli di pesca oliva jojoba avocado e olio di cocco evita invece l'olio di ricino che potrebbe scurire i tuoi bei capelli chiari piuttosto sciacquali con acqua e un po' di succo di limone per mantenere vivo il tuo colore le bellezze dai capelli scuri dovrebbero invece usare olio d'oliva o semi d'albicocca per mantenere il colore scuro e oli essenziali agli agrumi per renderli brillanti chi ha i capelli rossi tutti noi vi invidiamo sappiatelo dovrebbe usare olio d'oliva e olio di semi di albicocca per mantenere il colore e olio di bardana per renderli più morbidi voilà numero 1 stagioni gli sbalzi di temperatura potrebbero danneggiare i tuoi capelli quindi ecco qui qualche modo per affrontare il cambio di clima senza farli soffrire nelle stagioni fredde è importante proteggere i capelli come prima cosa mettiti sempre il cappello e poi ricorda di utilizzare il phon a una bassa temperatura quando fa freddo nutri i tuoi capelli con maschere sieri oli e vitamine le stagioni calde richiedono anche loro delle protezioni devi sempre indossare un cappello e mettere la protezione solare per prevenire i possibili danni dei raggi UV sui tuoi capelli ma quando fa caldo finalmente ci possiamo prendere una pausa dal phon hai qualche consiglio da darci su come rendere perfetti i capelli? condividi le tue opinioni nei commenti metti mi piace e condividi questo video con i tuoi amici il nostro canale il nostro canale il nostro canale grazie a tutti Grazie a tutti.